Affermazione di gran carriera per il basket Mazzara, che ad Acireale, nella settima giornata della fase ad orologio di DNC, sbanca il Palasport di Corso Italia per 56-72, ripartendo di slancio dopo la sconfitta subita sul campo di Monreale sette giorni prima. Mazzara, che parte forte già nel primo quarto, dove acquisisce già un vantaggio di 9 punti, che permette di tenere a bada nel secondo quarto la reazione vehemente degli avversari, per i quali uno scatenato marzo in serata di Grazia ha tenuto in apprezzione giallo-blu in fase difensiva per lunghi tratti, contribuendo a dare una grande spinta emotiva ai suoi per andare alla pausa lunga in parità sul risultato di 36-36. Al rientro, il match ritorna completamente a pannaggio della squadra di Coach Bonanno, che mette la freccia già nel quarto successivo, dove, complici anche i 18 punti di un superbo De Gregori e di 15 di un incomiabile Gullo, scappa più 9 sul punteggio di 45-56. Fantastico anche il supporto di Bruno e Naso, autori di 13 punti a testa, di cui la gran parte ha suon di triple. Nell'ultimo quarto è solo una passerella per i giallo-blu, che legittimano la loro vittoria numero 13, che vale il terzo posto in solitario, vista anche la sconfitta di Cosenza, squadra che sarà ospite al Palasport di Contrada Affacciata domenica 13 aprile alle 18.